Bella a tutti ragazzoni e benvenuti nel 17esimo episodio della nostra Master League con il Livorno su PES 4 Signori, allora prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto E vi ricordo sempre di iscrivervi al canale che ho bisogno del vostro supporto per andare avanti Allora signori, noi cosa ci aspetta oggi? Ci aspetta il ritorno di Coppa Ci aspetta il ritorno di Coppa, l'andata se non sbaglio l'abbiamo pareggiata 0-0 Quindi abbiamo un attimino una partita ad andare a vincere per forza Cambiamo formazione perché se non ricordo male l'ultima volta abbiamo cambiato formazione Abbiamo giocato con questa e si giocava leggermente meglio Andiamo a mettere Rossetti, chi è più veloce? Utaka Quindi andiamo a mettere Rossetti leggermente più indietro Così in modo tale che Utaka è la nostra unica punta centrale e dovrebbe far qualcosa di meglio Ci proveremo, non lo so signori, ci proveremo, giochiamo contro il The Craft Shop Grande, grande squadra, il famosissimo The Craft Shop Che però noi facciamo comunque schifo, quindi qualsiasi squadra contro di noi è sempre più forte di noi In un commento mi avete fatto morire perché avete notato che siamo a 16 partite Non ricordo quante partite abbiamo fatto finora Abbiamo segnato solamente 5 gol e quindi c'è decisamente un problema in attacco Decisamente sì, sono d'accordo con voi che c'è un grosso problema in attacco Non c'è un problema in attacco, c'è un grosso problema in attacco Che però dobbiamo cercare di risolvere Abbiamo comprato Utaka sperando che ci desse quell'appiglio, quella bravura, quella velocità Da poter spiazzare completamente gli avversari E invece Utaka si sta rivelando un pippone al sugo Di quelli proprio con il quale ci puoi fare il sugo la domenica e mangiare a casa dei parenti Gambardoni, gambardoni, mamma mia come si è rendo Utaka, 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 Utaka Va per via centrali, Utaka Vede Rossetti, che si gira su se stesso, Rossetti Abbiamo tirato in porta però, abbiamo tirato in porta Non male questa cosa Era bellissimo questo anticipo, questo anticipo, era bellissimo Peccato che abbiamo sempre i piedi più storti Attenzione Mi spiegate perché? Attenzione Utaka Che cazzo, perché ha fatto la finta di tiro? Ma chi ho comprato signori? Ma chi cazzo l'ho comprato? Che cosa ho comprato? Non è un giocatore Non è un giocatore di calcio Che problemi ha? Era meglio Cristiano Lucarelli, scusate, a questo punto Quando meno qualche pallone in porta l'ha messo Lucarelli Attenzione, attenzione, attenzione Attenzione Attenzione, Rossetti, rimane lì Mannaggia Allora, stiamo riuscendo a creare Questa cosa mi piace Questa cosa mi piace Uh, un Orgas No, era Vargas Era Vargas? Sì, mi sembra di sì Mi sembra di sì Mi sembra che fosse Vargas Perché gli devi girare attorno? Io non le capisco Perché gli devi... Grandissimo l'anticipo Bellissimo Utaka 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 Fai qualcosa di intelligente Utaka 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 Cerca Rossetti Cerca Rossetti che si ferma su se stesso Vede l'inserimento di un Orgas Ma porca miseria Guarda, eravamo riuscito a fare una bella cosa Che poi un Orgas si sta facendo recuperata dal difensore Però dettagli Dettagli, signori Dettagli Ci riesce ad andare Ci riesce Perché ci sta andando a Rossetti Quando c'era un Orgas Lì Quando c'era Utaka Utaka che non riesce a tenere Attenzione Mamma mia Ma che pippone che abbiamo comprato Martins Perché non si è voluto venire? È tutta colpa di Upafemi Martins, signori Che non è voluto venire da noi nemmeno in prestito Porca miseria Porca miseria Ce l'avrebbe svoltata Giallombardo Per Gambardoni Per Gambardoni Per nessuno Gambardoni non c'era voglia di vedere È daltonico Gambardoni, signori Gambardoni Abbiamo scoperto che è daltonico Non è riuscito a vedere il suo compagno libero In tutto il campo Utaka Un Orgas Un Orgas Un Orgas Un Orgas Un Orgas Un Orgas Anche questo doveva essere velocissima Dai, me l'ha buttato a terra però Non puoi fare Che se li butto a terra io è fallo Se me li buttano loro a terra Un Orgas Niente Fine del primo tempo Il risultato è ancora fermo Sullo 0 a 0 Procediamo con il secondo tempo, signori Procediamo con il secondo tempo Ricordiamo che se la partita dovesse finire così Ci saranno i supplementari Ed eventualmente i rigori Rigori ai quali io non vorrei arrivare Perché non mi ricordo O penso di avere qualche problema a tirarli Però 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 Non ci scordiamo Non ci scoraggiamo Non ci scoraggiamo Mai scoraggiarsi nella vita Riesci a liberarti Per il tiro Guarda un Orgas No Un Orgas mio Dovevi tirarla In maniera Dai Calma Calma e sangue Calma e sangue Non mi devo fare prendere dall'agitazione Porca Putta Chi barabba Chi c'è una barabba Dai Grande Amelia Grande Amelia Tu buttala sotto Confondiamoli Confondiamoli Cambiamo tattica Grandissimo Utaka Che vede Ceramitaro Che ripete Utaka Che riesce ad andarsene Bravo Utaka Bravo Utachino Un Orgas Grandissimo momento di Un Orgas Che la crossa Nooo Bellissimo Bella l'azione del Livorno Bello il cross E poi Rossetti La sbaglia completamente La sbaglia completamente Va bene Va bene Va bene Calma e sangue E freddo Calma e sangue E freddo Buono Qui il passaggio per Un Orgas Un Orgas Un Orgas Un Orgas Decide ad allargarsi Un Orgas Riesce ad allargarsi Un Orgas Un Orgas La ricrossa di nuovo al centro Per Rossetti Cazzarola signori Cazzarola di una miseria Rossetti mio Secondo colpo di testa Che mi sbagli così Dai Dai cazzarola Perché non ci sei andato Cioè Bucati in una maniera impressionante Bucati in una maniera impressionante Calcio d'angolo per loro Parte il traversano al centro Pallone deviato Vediamo se riusciamo a anticiparlo No Riusciamo a ripartire lì Era importantissimo Riuscire a ripartire lì Va bene Va bene Dai Pallone per noi Pallone per noi A chi lo vuoi dare Decidi a chi lo vuoi dare Sto pallone Dai 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 Via 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 No No Passa la prima di perderla Grandissimo Vai C'era Vai C'era Amitaro Vai C'era Amitaro Vai C'era Amitaro Che sei tutti noi Vai C'era Amitaro Conquista quella fascia Vai C'era Amitaro Vai C'era Amitaro C'è lo spazio E fallo E fallo E fallo E fallo E fallo E fallo 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 Chi la batte Non lo so Non lo so Però qualcuno la batte Il pallone al centro Attenzione E' buono Attenzione Era buono Attenzione Vargas 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 Ci prova da fuori Il portiere All'ottantaduesimo All'ottantaduesimo C'era Amitaro Riconquista il pallone C'era Amitaro C'era Amitaro Riparte lui Ha capito che la fascia Può essere una buona soluzione Ma troppo lontano Grande Quell'intervento di Pefzel Pallone Finisce Rimessa laterale Per loro E ancora Rimessa laterale Conquistato Mannaggia Di una miseria Mannaggia 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 Attenzione Ripartono loro Attenzione 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 Minuti di recupero No No Cazzarola Dai che gli ha dato il vantaggio Dai che gli ha dato il vantaggio Lo recuperiamo Sto pallone Vabbè Pallone fuori Signori Finisce qui Finisce Il secondo Tempo Regolamentare Partita Che finisce Sullo 0 a 0 Si procederà Con i tempi Supplementari Tutto 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 Sta salendo Un poco Di ansia Signori Sta salendo Un pochino Di ansia Abbiamo avuto Due belle azioni Di testa Ma Rossetti Non ha centrato La porta Rossetti Non è riuscito A centrare La porta Signori Peccato 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 Però Le azioni I cross Possiamo Pensare Di sfruttare Dai 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 Che l'ha riconquistata Stava La cazzarola Di una miseria Cazzarola Via 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 Grandissimo Rossetti Che vedo Taga No Unorgas Unorgas Che è molto Che è lento È lento Unorgas È lentissimo Va Ciro Guarda Ciaramitaro Perfetto Ciaramitaro Va per via centrali Ciaramitaro Per via centrali Cerca il compagno Anticipato Anticipato Netto Proprio Attenzione Del Tongo Del Tongo Utaka Utaka No 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 È nostro No È loro Dai però Dai così Grandissimo Rossetti Che No Vabbè Ma quanto durano i tempi supplementari Signor Uno schiocchio di dita Ma che cazzo Lo dici Come fanno a durare così poco i tempi supplementari Primo tempo supplementare già se n'è andato Bene Ma le difese sono state perfette Non c'è stata un'azione Attenzione Rossetti 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 Annaggia Della miseria Un orgasmo Non mi ha fatto il movimento Un orgasmo No 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 Fermalo Grandissimo Grandissimo Dai che è tua Per Ciaramitaro No Mannaggia Non è riuscito il gioco di piedi A Ciaramitaro Ma Ma No No Non riusciamo a fermare Dai Che cazzo non lo fanno Boh Io più cercavo il giocatore Più Dai dai Lancia la sotto Lancia la sotto Veloce Amelia Dai 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 Che è finita Dai che è finita No 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 Questo è fallo invece Questo è fallo Cioè a me non mi fischia i falli quelli giusti E poi fischia sti falli Fischia sti cacate Ve ne rendete conto che cacata che ha fischiato? Va bene Va bene Va bene Non ci preoccupiamo signore Perché tanto oramai Si va ai rigori Si va ai rigori signori Si va ai rigori Semifinale Che sarà decisa ai rigori Perfetto Tutti gentilissimi Tutto bellissimo Tutto bellissimo Rossetti Utaka Uno Gas Gambardoni C'è la mitaro Signori Andiamo così Che vi devo dire Valev Contra Amelia Va Valev La tira fuori Errore 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 Del graph shop Rossetti Rossetti Rigore Go A clander A clander Lo sapevo che lo tirava centrale Lo sapevo che lo tirava centrale Porca miseria Utaka Utaka lo centra Una a una signori Dopo due rigori Dopo due rigori Una a uno De graph Io non mi muovo Perché tanto prima o poi Qualcuno centrale Lo tireranno di nuovo E che t'ho detto E che t'ho detto E che t'ho detto Parata 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 Uno Gas Cambia lato Livorno in vantaggio Livorno in vantaggio Uno Gas Loval Io non mi muovo Non mi muovo Non mi muovo Ne va bene Due a due Gambardoni Gambardoni Leva le ragnatele Da quel Da quel Da quell'incrocio Duiz Duiz Trova il gol Ciaramitaro 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 Freddo sul dischetto Signori Freddo sul dischetto E li vorrà in finale Signori Dai così Dai così Che cazzarola di partita Però siamo in finale Signori Siamo in finale di coppa Porca miseria Porca miseria Vinciamo 4 a 3 Calci di rigore Ma io posso soffrire così tanto Per una cazzarola di partita Ma io posso Posso Non posso C'ho dei giocatori Che sono proprio inutili Ok Prendiamo tanti punticini Che vanno bene Per la nostra squadra Oh Amelia finalmente Un pochino aumenta Percell Non gli interessa Giallombardo Non gli interessa No Giallombardo Forse un pochino aumentato Del Tongo Quasi Ciaramitaro Sale Buono Bravo Ciaramitaro Gambardoni Niente di particolare Unorgas Migliore Nella tecnica Bravo Utaka Utaka Non gli interessa E Rossetti Aumenta Dai Dai Che prossima partita Rossetti Prende tanti bei punti Tende tanti bei punti Signori Ci giochiamo alla finale di coppa Questa è tanta roba Ci giochiamo alla finale di coppa Almeno una buona notizia Anche tanto Partita soffertissima Finita in rigori Che però ci siamo portati A casa Classifica Rendimento Chi se ne frega Faremo schifo Della versione Proposizione Campionato master Dove si Ah no Questa è la classifica Ok Siamo terzi Ok Ok Va bene Prossima partita Contro il Siviglia Cosa cazzarola Mi dici Sì Contro il Siviglia Signori Rimangono le ultime tre partite Di campionato E l'ultima E la finale Di coppa Ma Detto questo Signori Vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i genti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo Affondamento Bella raga Ciao Ciao